C'è chi dice che fai male, chi afferma con piglio medico che vai preso a piccole dosi, altrimenti uno ci si può abituare, chi ti odia perché fai ammalare, chi rimane senza voce dopo che con te ha avuto a che fare, chi è caduto nel vortice e senza di te non può stare, non può mangiare, non può dormire, non può vivere o respirare e se non ti trova va in astinenza e comincia a sudare. C'è chi ti mette come optional indispensabile prima di partire e chi non vede l'ora di tornare a casa per poterti trovare e si mette comodo comodo sul divano, arrotola la camicia e lascia che la pelle venga punta da quel dolce privido freddo che genera piacere. Hai distrutto rapporti, incrinato le cende, legasi amicizia uomo-donna, fatto arrabbiare colleghi di lavoro e stressato milioni di finestre, mandato in crisi le coppie con lei che a un certo punto dice ora basta, scegli o lui o me, o lui o me e tu la guardi e poi lo guardi, la guardi e poi lo guardi, la guardi e poi l'accendi. Io ti amo condizionatore e grazie per tutti i bei momenti. Spegnilo!